Ben ritrovati con il telegiornale di Arezzo TV Paura. Questa mattina al MAEC di Cortona, il museo dell'Accademia Etrusca, perché è scattato l'allarme antincendio. Erano circa le 12.30 quando la stanza della biblioteca del museo si è riempita di fumo ed è scattata la sirena antincendio. Sono arrivati sul posto i vigili del fuoco e si sono accorti che si trattava di un guasto che aveva interessato l'impianto della biblioteca che si trova al terzo piano di Palazzo Casali. Mentre erano in corso dei lavori della ditta che si occupa dei sistemi antincendio, gli impianti della biblioteca del MAEC sono entrati in azione, spiega l'amministrazione comunale. Per fortuna al momento dell'accaduto nessuno si trovava nei locali e dalle finestre dell'edificio ha iniziato a fuoriuscire del fumo. Fumo che appunto faceva proprio riferimento all'attivazione dell'impianto antincendio come reazione ad un agente chimico utilizzato proprio per proteggere i tomi in caso di rogo. Come dicevamo non c'è stato nessun ferito, nessun intossicato. Dopo un primo sopralluogo è stato appurato che all'interno appunto del museo non si era sviluppato alcun rogo. Il museo resterà chiuso per tutta la giornata di martedì 23 gennaio. E adesso torniamo sul caso della 28enne Ilenia, morta dopo aver fatto accesso al pronto soccorso di Arezzo e dopo essere stata anche sottoposta ad una delicata operazione. Il caso adesso potrebbe andare verso l'archiviazione o perlomeno insomma il pubblico ministero appunto ha chiesto l'archiviazione ma la famiglia non si arrende. Non mi arrendo, no non mi arrendo. Io voglio fare chiarezza. Perché non ci sia più un Ilenia Cavallini che subisca tutto quello che ha subito lei. Cristina Fioretti, la mamma di Ilenia, la giovane morta il 27 dicembre 2021 all'ospedale San Donato di Arezzo. Dopo essere entrata in pronto soccorso il giorno precedente con forti dolori addominali non si arrende. Ha passato una grossa agonia. Io l'ho sentita. Io pensavo che stava male perché stava male tante ore. Non credevo che era così grave. La 28enne morì dopo ore di agonia per la conseguenza di una particolare patologia. Il megacolon tossico ha sportato poi perché in necrosi. La cosa principale del megacolon tossico è arrivare il prima possibile. Quindi se passano nove ore non è che gli fa bene. Io non voglio dire che sicuramente al 100% non moriva. Però nemmeno sicuramente al 100% moriva. La famiglia aveva chiesto di fare piena luce sulla vicenda. Nel maggio 2022 aveva così presentato denuncia contro ignoti per responsabilità colposa per morte in ambito sanitario e abbandono di persone incapaci. La procura aveva aperto un fascicolo ed adesso ha chiesto l'archiviazione. Ci rimani malissimo, specie quando arriva dopo un anno e mezzo. La richiesta poggia sulla perizia medico-legale nella quale si riconosce che le contestazioni mosse dai familiari della giovane avrebbero una base, non riscontrando però un nesso causale tra ritardi e morte. All'inizio dice che sì, c'è stato due ritardi. Uno sulla richiesta dell'attacca e uno sulla richiesta della visita chirurgica. Però questo dice che non influisce sulla morte. Ma questo chi lo può dire? La famiglia sta già valutando richiesta di opposizione ma intanto la vicenda ha varcato le porte del Parlamento con l'onorevole Letizia Giorgiani che ha chiesto chiarimenti direttamente al Ministero della Salute. Lei è passata subito un codice rosso, dal codice verde e l'hanno operata alle 11.35, alle 23.35, dalle 13 che era entrata. Cristina non ha potuto rivedere la figlia nei suoi ultimi attimi di vita. Alle 10.38 era al telefono con il chirurgo di guardia. C'erano già tre rianimatori lì e lei lo sapeva e non me l'ha detto perché lei mi poteva dire signora venga subito qua. Questo mi poteva dire e io sarei stata con lei. Lei avrebbe visto la faccia della sua mamma almeno. Io l'avrei vista cosciente. Anche questo mi ha negato. Arbitro Arettino colpito durante una partita di calcio. La gara alla fine viene sospesa. È accaduto ieri nel corso della partita di prima categoria tra Acquaviva e Fonte Belverde. La ricostruzione dei fatti sarà affidata al giudice sportivo in base a quanto messo a verbale. Di certo appunto c'è che sul finire del primo tempo l'arbitro ha estratto un cartellino rosso all'indirizzo di un giocatore che era già stato ammonito in precedenza. Da qui ne sarebbe nato un parapiglia e altri compagni di squadra. Si sarebbero appunto diretti verso l'arbitro. Uno di loro lo avrebbe colpito come poi racconteranno anche alcuni dei presenti. Il direttore di gara ha dunque fischiato la fine della partita. Tutti sono andati negli spogliatoi e la gara, come dicevamo, è stata sospesa. Questa è la settimana della memoria, giornata della memoria che ricorre il 27 di gennaio e allora torna prepotente il tema appunto delle vittime, delle stragi nazifasciste. Quest'anno peraltro ricorrono gli 80 anni sul fronte dei risarcimento sul piano civile. Come sappiamo l'Avvocatura di Stato ha già presentato ricorso dopo le prime sentenze di condanna e su questo insomma i sindaci stanno facendo muro. Tra questi anche il sindaco di Civitella in Valdichiana, Andrea Tavarnesi, che sentiamo ai nostri microfoni. Quello che sta succedendo a Civitella è un po' in linea a quello che sta succedendo negli altri territori, dove c'è un ostruzionismo latente da parte dell'Avvocatura dello Stato, da parte del MEF, nell'andare ad attingere a quello che era al fondo. Ricordo che per attingere al fondo c'erano due requisiti, o meglio uno dei due requisiti. O si aveva una sentenza di passato ingiudicato in cui c'era un riconoscimento oppure si dava un tempo per promuovere una causa civile. Ecco quello che è successo a un cittadino di Civitella che aveva a suo tempo nel processo penale della Spezia si era costituito parte civile contro gli ufficiali tedeschi, contro la Germania e in quella stessa sentenza del 2008 passato ingiudicato gli era stato riconosciuto un risarcimento civile. Lui, a differenza di altri, aveva chiesto l'attingimento al fondo, al MEF, che è il ministero e deputato e la settimana scorsa, dieci giorni fa, gli è arrivata una nota del MEF in cui gli si diceva che in qualche maniera da quando c'era stata la sentenza passata ingiudicata ad oggi erano passati più di 8 anni e quindi in qualche maniera la sua richiesta era prescritta. Penso che questa cosa sia una cosa molto grave anche perché ricordiamoci da dove veniamo ricordiamoci che la strada di Civitella come tante altre stragi in Italia erano chiuse in quello che conosciamo come armadio della vergogna quindi per avere un giusto processo penale ci è voluto più di 50 anni e ora si richiama a quello che è la prescrizione. Mi sembra veramente un atteggiamento abbastanza discutibile. Voi sindaci tra l'altro vi siete riuniti pochi giorni fa per avviare un percorso comune per chi vive le stesse vicende? Sì, certo, noi ci siamo visti, c'era anche una riunione organizzata dal Consiglio regionale e dal Consigliere Pescini ci siamo visti i primi di gennaio a Firenze in quello che è il coordinamento delle stragi nazifasciste, dei comuni stragizzati fatto dalla Regione Toscana un paio di anni fa, una cosa veramente molto bella, ci siamo riuniti anche per andare a definire quella che è poi una linea comune da tenere contro questo atteggiamento latente dell'Avvocatura del Stato e del Governo. Parliamo adesso invece di menze nelle scuole comunali di Arezzo, l'incontro richiesto dai rappresentanti dice il vice sindaco Lucia Tanti è calendarizzato il 15 gennaio che poi colpevolmente dice il vice sindaco non è stato possibile effettuare proprio per un disguido della mia segreteria, è stato fissato per il 30 di gennaio data che vede la disponibilità anche dell'Asl oltre che di Elior, la società appunto che gestisce in appalto il servizio la data del 22 gennaio proposta da me insieme a quella del 30 dice ancora Latanti non rendeva possibile proprio la presenza dell'Asl, la scelta del 30 gennaio è stata comunicata ai 37 firmatari di questa richiesta che era stata proposta appunto nello scorso dicembre proprio venerdì mattina con conferma di poche ore fa così appunto la vice sindaca Lucia Tanti annuncia la nuova riunione fissata proprio con i rappresentanti mensa che avevano messo insieme un gruppo per segnalare proprio le problematiche in essere in questo periodo nelle mense scolastiche. Ricevo dice ancora Latanti anche diverse telefonate di rappresentanti mensa e di genitori un po' scocciati per la richiesta di una raccolta firme ma dice ancora la vice sindaca sono troppo vecchia di amministrazione per non capire che è facile creare un movimento su un tema così delicato qualche arruffa popolo così insomma li definisce il vice sindaco ci sta quel che conta è trovare soluzioni alle criticità come sempre abbiamo fatto. Parliamo adesso invece della città del Natale oggi la fondazione Arezzo Inturra ha diffuso i numeri ufficiali di quella che rimarrà nella storia come un'edizione da record. Quest'anno siamo particolarmente contenti non solo per la rassegna città del Natale che è andata evidentemente bene ma per tutto il 2023 che è stato un anno veramente importante in termini di presenze turistiche nel nostro territorio. 80.000 presenze estimate tra settore alberghiero ed extra alberghiero, quasi 30.000 gli accessi agli Infopoint ed infine l'importante posizionamento di Arezzo sul mercato turistico italiano, 35esima destinazione turistica e seconda per crescita della domanda in Italia nel periodo che va dal 15 ottobre 2023 al 4 gennaio 2024. Insomma un'edizione da incorniciare quella di Arezzo città del Natale che si è appena conclusa come raccontano i dati monitorati dalla fondazione Arezzo Inturra. L'incremento delle locazioni turistiche del 30% a livello di presenze che è tantissima roba e sono poi quelle presenze che sono sempre in discussione quando vengono fatti i report e gli studi quindi per noi vogliono vedere tanto. Un bilancio che nell'anno 2003 vede il record assoluto di presenze turistiche confermato dagli importi della tassa di soggiorno registrati dal comune di Arezzo. E quindi sicuramente ci dovremo porre il tema di qual è il vero ritorno della città del Natale non solo per l'indotto economico che è evidentissimo ma anche per l'amministrazione comunale che tante risorse, tanti uomini mette a disposizione della città del Natale e quindi pensiamo a porci il tema di ritoccare la tassa di soggiorno. Quello che entra di tassa di soggiorno noi lo spendiamo per fare turismo. È chiaro che se questa dovesse incrementare a livello di importo unitario avremmo delle risorse in più. Ottimi anche i risultati dei musei che solo nel periodo della manifestazione, grazie al sistema Musei di Arezzo, hanno registrato oltre 17.000 accessi. Sicuramente la città da questa visitazione concentrata in questi due mesi ne trae un grande vantaggio. I residenti del centro storico ne hanno alcuni fastidi, non c'è alcun dubbio, che però possono essere a mio avviso completamente compensati dal grande vantaggio che tutta la città riceve, non soltanto loro. Sperpero di soldi pubblici non solo via Fiorentina e Baldaccio, ma anche sul fronte della cultura. L'attacco è di Donato Caporali, capogruppo del Partito Democratico in Consiglio Comunale ad Arezzo. In questi giorni, dice il capogruppo, il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, si è recato a visitare Pesaro, capitale della cultura, per l'anno 2024. A questo proposito, è bene ricordare che l'amministrazione Ghinelli e la destra, con tanto di annunci e fanfare negli anni passati, annunciarono proprio la candidatura di Arezzo per questo ruolo, candidatura che poi non ha mai raggiunto le fasi finali. A riprova di ciò, Arezzo retrocede, rispetto anche a un decennio fa, dalla prima alla quarta posizione nella classifica di simbola, rispetto appunto alla ricchezza generata dalle politiche culturali. E rappresentano sicuramente la cultura italiana, almeno sotto il profilo della musica, Pupo e il Cile, che si sono messi insieme per il loro singolo tricolore, che era stato proposto per Sanremo 2024, poi purtroppo escluso. Lo sentiamo insieme. Come al tavolo verde, c'è chi vince e chi perde, sono un atto attaccante, altro che resiliente, ho una storia alle spalle, perché ho avuto le palle, nella vita conta sempre il contante, Pupo e il Cile insieme nel singolo tricolore, brano escluso dal 74esimo festival di Sanremo. Tricolore, scrivono i due interpreti, è un brano figlio di questi tempi frenetici, caotici, liquidi, dove il verso formato dalle parole si perde nel metaverso e viceversa. Le identità artistiche dei due aretini, coadiuvati dal producer Andrea Bumbo, si fondono in un dipinto musicale, che è un affresco della società odierna. Nella canzone, l'arma dell'ironia non smette mai di pungere l'ascoltatore, a partire dal gioco di parole del titolo, che unisce tris e colore, che sono i punteggi del poker. È stato un onore per me collaborare con Enzo, afferma il Cile, che è un'icona mondiale della musica italiana. Non a caso con Tricolore, il mio intento era proprio quello di celebrare con ironia e acume pregi e difetti della nostra penisola e delle nostre anime artistiche e umane. Dalla musica al teatro, la mandragola di Machiavelli è arrivata al teatro Virginian di Arezzo. Assumerete, darete davvero a vostra moglie questa pozione che egli sapientemente ordinerà, anche se noi dentro non sappiamo, ma che cosa ci mettiamo? Se la prenderà, anche se dentro ci dovesse essere... Boh! Della mandragola! 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 Mandragola? E mandragola sì! Al teatro Virginian, la sagaccia è la comicità di uno dei più grandi drammaturchi del Cinquecento italiano, Niccolò Machiavelli, con la mandragola, all'interno della stagione teatrale non la solita minestra. Una produzione della compagnia Teatro Europeo Plautino, con la regia e l'adattamento di Cristiano Roccamu. Lo spettacolo scorre veloce grazie ad una trama incentrata sull'inganno con personaggi ed attori che si somigliano sempre di più sino a fondersi ed intercambiarsi. Quando si parla di mandragola si parla di un capolavoro del teatro italiano. Il lavoro in particolare che noi abbiamo fatto è stato quello di impregnare il testo originale di Machiavelli con delle, come possiamo dire, influenze della commedia dell'arte. Abbiamo evitato di utilizzare il testo scritto come era stato fatto da Machiavelli con questo fiorentino, diciamo, un po' ostico da masticare e da dire e anche, diciamo, forse da comprendere per il pubblico. Abbiamo invece preferito, appunto, tramite i caratteri della commedia dell'arte utilizzare vari dialetti di provenienza che ogni attore, diciamo, della compagnia ha nel suo bagaglio così per dare una ventata di freschezza. Mi hanno cancellato la carrozza l'unico diretto Arezzo Parigi una settimana pulito, pulito, pulito e quindi è stato un esperimento e noi abbiamo fatto dei provini ci siamo incontrati pensando di fare una messa in scena piuttosto classica e ci siamo trovati all'inizio un po' un po' persi in mezzo a tutti questi virtuosismi tutto questo gioco che in realtà alla fine è risultato, almeno per me molto funzionale a quello che era il testo. Nuovo appuntamento per la stagione del Teatro Verdi di Monte San Zavino con un evento dedicato a celebrare il giorno della memoria sabato 27 gennaio con inizio alle 21 e 15 il sipario si aprirà sulle tre notti del 43 Giorgio Bassani, Florestano Vancini e Guido Finca racconteranno una delle pagine più oscure della nostra storia lo spettacolo ricostruisce infatti la paura di quella notte e i silenzi che la seguirono prendendo spunto da testimonianze dirette dal racconto una notte del 43 e siamo adesso alla pagina sportiva partiamo dall'Arezzo che perde in casa contro il Pescara a segnare due ex Amaranto proprio ovviamente contro l'Arezzo C'è, c'è, c'è indubbiamente c'è perché credo che la squadra abbia fatto una buonissima gara non meritava assolutamente di perdere peccato, però il car c'è questo a Carrara magari domenica abbiamo racconto qualcosa in più di quello che meritavamo e oggi qualcosa in meno però ecco la squadra ha rifatto un'altra buonissima gara e se continuiamo così sicuramente faremo un buonissimo appianato Viore è andato bene Gaddini è andato bene Fattarello pure in condizioni precarie qualcosa ha fatto peccato non essere stati bravi nella fase finale di Sottoporta è chiaro se lì ci fosse stato magari il nostro affondoniere lo sa però ecco la squadra io credo si sia espressa lo stesso come gioco anche senza il terminale però è ovvio che credo sia tutte le squadre se ti manca il terminale il tuo affondoniere per forza un po' ne risenti la squadra è viva ho fatto ai ragazzi ho fatto complimenti agli sbagliatori ho detto se continuiamo così ci divertiamo perché siamo vivi e insomma ripeto bisogna andare al di là ecco di semplice risultato chi lo sa se la prestazione di oggi è stata inferiore a quella di Domenia Domenia abbiamo vinto oggi abbiamo perso chi lo sa forse Domenia era più da pari oggi uguale più da pari però è andato meglio così abbiamo tre punti invece di due credo che sia stata una partita abbastanza alla pari dettata dagli episodi ecco mi viene in mente nel secondo tempo la parata la grande parata poi il palo che ha preso Donati sul calcio d'angolo un'altra la palla che è rimasta lì in mezzo all'aria che Sciacca non è riuscito a colpirla bene a porta vuota insomma ci sono stati episodi che sfortunatamente questa domenica ci sono girati a sfavore beh sicuramente l'appoggio di Nico manca oggi l'abbiamo preparato in questo modo credo che in fase di possesso abbiamo anche insomma loro hanno fatto fatica a contenerci credo davanti ci trovavamo spesso liberi con uno contro uno e è stato un altro modo di approcciare la partita sicuramente lui con le sue spizzate le sue le sue sponde la sua fisicità è mancata quello è certo non è andata meglio per le ragazze del rezzo calcio femminile che tornano sconfitte dalla trasferta a Cesena 5 risultati buoni è una crescita anche molto molto veloce in poco periodo oggi l'abbiamo saputo che è una bella squadra il Cesena non ci ha fatto tante occasioni oggi come abbiamo visto contro contro altri altri avversari anche più diciamo più grandi come società contro la Lazio per esempio dove hanno vinto però sì oggi con due episodi diciamo abbiamo preso questi due gol però penso la partita era una partita molto diciamo con molti contrasti due squadre che alla fine hanno voluto giocare con il pallone sì è sempre una crescita per noi è sempre una crescita dal primo giorno anche fino ad ora bisogna trovare ora la continuazione la continuità per continuare con il nostro progetto a crescere e oggi contro questi tipi di avversari li abbiamo affrontati anche in agosto e ho visto che la nostra squadra era molto più competitiva contro loro oggi e questo mi fa piacere quando affronti queste squadre questi tipi di squadre come hai detto te diciamo di alta classifica bisogna essere un po' più veloci con le nostre i nostri decisioni di entrare nell'ultimo terzo perché sicuramente hanno 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 ragazze che sono sono molto veloci a leggere l'azione leggere questa prima palla anche la seconda palla quindi bisogna trovare ora un po' più fluidità con il pallone e più velocità nel pensiero quindi prima che va il pallone ai nostri piedi bisogna già avere un appoggio pronto per attaccare poi la profondità quindi queste cose verranno con il tempo abbiamo detto questi cinque risultati che abbiamo fatto è stata diciamo l'inizio della nostra crescita e bisogna solo continuare così lo so che la gente non ha pazienza però grazie tante la pazienza nel calcio è fondamentale non puoi dopo cinque partite dire che sei il Real Madrid o sei una squadra fortissima non è così purtroppo il calcio non funziona così quindi bisogna avere fiducia in queste ragazze un fine settimana davvero nero per i colori amaranto anche del basket perché la SBA gioca bene ma non ce la fa contro il San Mignato buona prestazione per la MBC Servizi Arezzo che gioca alla pari per 38 minuti contro la terza in classifica fuori casa gli amaranto però non hanno il guizzo giusto per tornare al successo esterno pagando come già accaduta a Castelfiorentino l'alto numero di palle perse parte meglio San Mignato nei minuti iniziali ma la MBC Servizi rimonta a punto su punto e solo le iniziative personali di Menconi e Bella Chioma danno 5 lunghezze di vantaggio ai pisani a fine primo quarto nel secondo parziale i ragazzi di coach evangelisti sono più fluidi nonostante qualche errore al tiro si incollano agli avversari ma all'intervallo Arezzo è sotto di tre punti con tutta la seconda parte di gara da giocare la squadra di coach evangelisti rientra con il piglio giusto dagli spogliatoi e riesce a mettere la testa in avanti con i canestri di pelucchini e le incursioni di Giannicelli e Semprini nel momento migliore a Maranto però la MBC Servizi deve fare i conti con un ispirato Bella Chioma che metta a referto 8 punti consecutivi che permettono a San Miniato di chiudere avanti al trentesimo 58 a 55 nell'ultimo quarto entrambe le squadre faticano a trovare la via del canestro la SBA perde qualche pallone di troppo sulla pressione difensiva avversaria così è Manconi a firmare un mini parziale che lancia l'etrusca nel finale la MBC Servizi prova a reagire ma non riesce a recuperare così arriva una sconfitta al quarantesimo con il punteggio di 71 a 64 adesso gli Amaranto avranno qualche giorno per rifiatare prima di preparare il prossimo impegno fissato per domenica 28 gennaio alle 18 quando dopo due trasferte gli Amaranto torneranno al Palace Portestra ospitando Serra Valde è tutto per questa edizione del nostro telegiornale grazie per l'ascolto e buon proseguimento con i nostri programmi arrivederci grazie per l'ascolto